Il Presidente della Regione, Vito De Filippo, ha commentato la decisione della consulta della Corte Costituzionale di bocciare la tassa sulle disgrazie perché non conforme alla nostra carta fondamentale, dichiarando che la decisione ci dà ragione ma ancora di più fiducia e speranza. La consulta ha sancito l'incostituzionalità di quelle parti della legge 10 del 2011, secondo cui in caso di calamità naturali le regioni, prima di poter accedere a eventuali aiuti da parte dello Stato, dovessero elevare al massimo le proprie addizionali fiscali per recuperare fondi per l'emergenza. Contro quella norma la stessa Regione Basilicata aveva promosso il giudizio davanti alla consulta, sostenendone appunto l'incostituzionalità. Sotto un profilo istituzionale, ha commentato De Filippo, era impensabile che un livello dello Stato imponesse scelte fiscali agli altri livelli, ma sotto un profilo morale era inaccettabile un sistema basato sulla logica di chi ha guai se li piange. E la decisione della Corte Costituzionale ci allontana da quello che era diventato l'incubo di un sistema che non conosceva la solidarietà e la coesione nazionale.